Come è la nostra ricerca? Esattamente come in mostra, voi trovate gli animali e le specie botaniche che ci hanno invaso e tutto sommato se non lo andiamo a scoprire da persone competenti non ce ne accorgiamo, magari ci stupiamo ma non le sappiamo riconoscere oppure non ne sappiamo il perché. Allo stesso modo noi oggi siamo dei fruitori inconsapevoli di arte contemporanea a ogni immagine che guardiamo. Dalle immagini che noi facciamo e produciamo con i nostri smartphone e i nostri tablet, alle fotocamere, a ciò che vediamo nella pubblicità, nella televisione e soprattutto quello che è il focus della nostra ricerca da dieci anni, l'ambiente del videogioco. Abbiamo dei ragazzi, abbiamo degli studenti, abbiamo dei giovanissimi anche in sala, esperti di videogame, più esperti di noi perché i nativi digitali comunque nascono già con una preparazione nel DNA. Ma quello che noi cerchiamo di fare è superare anche questo aspetto semplicemente di fruizione naturale e spiegare quella che è la connessione con tutto il bagaglio culturale che lo ha prodotto. Quindi perché oggi effettivamente noi abbiamo il cinema fatto in un certo modo, la fotografia e il videogame? Perché? Che cosa lo ha prodotto? E che tipo di linguaggio hanno oggi questi media all'interno del nostro villaggio globale? Quindi in questa chiacchierata che noi faremo di circa 40 minuti, poi abbiamo un ospite che parlerà insieme a noi che è Stefano Tamborini del liceo Sereni di Laveno, della terza A con cui abbiamo fatto uno di questi progetti di legalità come prassi. Quello che noi faremo in questa chiacchierata è proprio raccontarvi un po', tirandovi dietro, il nostro percorso, da cosa siamo partiti, come abbiamo fatto, come abbiamo scoperto certe cose, come le abbiamo applicate al mondo del lavoro e al mondo della nostra conoscenza. Ecco, quindi ci seguirete un po' sulle montagne russe, ma di fatto speriamo di potervi dare un senso sia per quello che racconteremo, quest'arte aliena, sia per quello che voi stessi incontrate nei vostri percorsi culturali. Se avete ricevuto l'invito fatto dal museo, avete potuto vedere quell'immagine a sinistra che vi abbiamo portato anche come quadro e dopo potete vedere anche questi quadri. Sono tre simboli che abbiamo scelto di arte contemporanea fatta al computer proprio per vicinanza al tema della mostra. Quindi un fiore che in Super Mario Galaxy diventa feroce e tu devi scappare più che puoi perché altrimenti vieni mangiato dal fiore ma devi anche poterlo eliminare per far punti, che è un'opera di game photography. Quindi è un'opera che un artista fotografo realizza videogiocando non per vincere in quella sessione di gioco ma per fare uno scatto esattamente come un reporter fa in una situazione di guerra o in una situazione di festa. Quindi l'obiettivo dell'artista è scattare una foto fatta in un certo modo. Questo non è uno screenshot che chi videogiocca a Super Mario Galaxy trova, è soltanto una foto che puoi fare se tu ti trovi in quella posizione. Il fotografo di videogame lo fa apposta, piuttosto si fa ammazzare, distruggere e a seconda del videogioco restare nello stesso livello in continuazione ma lo scopo è raccogliere un'immagine. Quindi poi vi abbiamo portato un'immagine di pixel art, questa mosca bianca, sempre in tema della mostra, che è di un artista molto importante italiano, Antonio Riello. Emanuele Bresciani è uno dei quattro più importanti game photographer che ci sono al mondo, italiano, è stato tra i primi in Italia proprio a seguire questa corrente. Antonio Riello è un artista molto importante per l'arte contemporanea in genere ed è di quegli artisti che hanno utilizzato il soggetto del videogioco per metterlo all'interno delle proprie opere. Ha fatto diverse volte la Biennale di Venezia e tantissimi altri eventi molto importanti. E poi abbiamo scelto la vedova nera, personaggio Marvel di Avengers, perché è un esempio di concept art. E poi vi facciamo vedere i video, vi spieghiamo bene anche tutte le tecniche. Fatta da una ragazza molto brava che lavora a Londra e che ha questa tecnica particolare. Vi abbiamo portato il Dottor Strange da vedere dal vivo perché anche questa, come le altre, è un'opera totalmente elaborata dentro il digitale, ma sono tutte opere che hanno bisogno della mano dell'artista. Infatti la tematica principale che ha guidato la nostra ricerca in questi dieci anni è il raffronto tra queste due espressioni. L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica, che è un saggio famosissimo di Benjamin, ha cambiato il modo di approcciarci non solo a livello storico ma anche proprio a livello di comunicazione, perché il fatto di riprodurre l'opera d'arte ha permesso la divulgazione a livello globale, mondiale, di ciò che prima era esclusivamente all'interno dei musei, all'interno di pubblicazioni magari stampati attraverso le incisioni, che erano il principale elemento di documentazione che gli artisti usavano come gli schizzi per andare in giro e documentarsi. e quello che noi abbiamo fatto oggi, cioè dieci anni fa, è l'applicazione tecnologica nell'era della sua manuabilità artistica, cioè ribaltiamo i piani. Noi oggi abbiamo la tecnologia a disposizione, la usiamo tutti i giorni, ma non stiamo a chiederci come funziona il nostro smartphone, lo usiamo e basta. Gli artisti in questi dieci anni hanno cambiato completamente la possibilità di usare queste tecnologie a proprio favore, chiedendosi come funzionano e addirittura chiedendo alle case produttrici come Adobe, che fa Photoshop, di inserire degli strumenti specifici perché potessero crearsi delle vere e proprie suite, così come si chiama il programma, per lavorare al suo interno personalizzandolo al massimo. Però è necessario un piccolo escursus sulla nostra filosofia aumentata prima di entrare nella parte più tecnica. Ecco, il punto di partenza nelle nostre mostre, per noi le mostre devono essere in primo luogo piacevoli, poi c'è un secondo approfondimento che può essere la visione dell'immagine, sapere quello che c'è dietro, tutto il processo che c'è dietro all'immagine e, ultima parte, le connessioni remote, come le abbiamo chiamate. Perché questa che definiamo la nuova arte del XXI secolo è connessa a tutte le arti che l'hanno preceduta e come questo percorso abbia una datazione all'incirca di 10.000 anni. Se volete approfondire potete andare sul mio blog e leggere proprio il pezzo Contemplare la distrazione. Perché? L'immagine di Le Due è a me cara già dall'epoca dell'università. Ecco, perché? Perché per noi il videogame è l'ultimo prodotto, l'ultimo medium espressivo e culturale e artistico della nostra civiltà, cioè di una cultura che si basa sulla costruzione di città. La nostra civiltà per noi è un sogno ad angolo retto, per di più con diritto alla distrazione, perché dall'angolo retto si può uscire, basta uscire dal perimetro. Perché? Perché in realtà io negli anni 90 ero suggestionato dalla nuova realtà virtuale, che oggi è chiamata la vecchia realtà virtuale, quella di film come Strange Days e così via. Cioè dal casco, che oggi è tornato di moda ma come, diciamo, come occhiale, e immersivo, che sembrava avrebbe dovuto sostituire lo schermo del computer. Invece nella seconda metà degli anni 90 è tornato in auge lo schermo del computer e lo è tuttora. E allora mi sono chiesto, come mai? Perché è difficile uscire da un mondo ad angoli retti in cui siamo profondamente immersi, tanto che troviamo questa realtà assolutamente naturale. Ma naturale non lo è, perché in principio fu il mattone di fango. Non avremmo oggi il computer, questo schermo, le porte e le finestre, se non ci fosse stata questa invenzione, cioè l'invenzione della struttura portante, dell'elemento portante, delle case, il cui numero di case fa il villaggio e fa la città. Quindi la civiltà d'angolo retto, per esempio, non appartiene alle culture tribali, che vivono in un mondo come l'occhio fatto di strutture curvilinee, le famose capanne, tanto per dirne una. Per arrivare all'angolo retto bisogna arrivare a una fase di cultura che non è maggiore o minore, ma diversa, cioè quella che dà vita alle città. E le città si basano su delle case, come l'economia, la legge della casa. E la casa è costruita ad angolo retto, perché i mattoni eliminano l'horror vacui, quindi completano, non lasciano spazi aperti, e poi sono perfetti per la gravità terrestre. Questa forma ad angolo retto la usiamo soprattutto sulla Terra. Quando dobbiamo volare o andare in nave, generalmente gli ublò sono rotondi. C'è una diversa relazione con la Terra. E quindi non usiamo generalmente questo tipo di struttura, che va bene invece per la gravità terrestre. Il sogno ad angolo retto è tale che anche quel mondo che noi tendiamo a vedere come tondo, è il 2, la tavoletta d'argilla babilonese, viene iscritto, come in tutte le cartine, in una cartina, in questo caso in una tavoletta d'argilla, rettangolare. Terzo, si affrescano i muri. I muri rettangolari diventano il luogo dell'arte, l'affresco. Possiamo passare avanti. Viviamo in un mondo di porte, qui vi ho messo la porta del paradiso del Ghiberti, ma qui parliamo di cose estremamente terrestri, di finestre. Questa è una finestra di una biblioteca canadese, molto bella perché c'è dentro, in questa vetrata, il libro. Ecco un altro elemento, ecco un altro medium ad angolo retto, di cui facciamo uso normalmente, che è collegato, che non sarebbe esistito senza il mattone, senza le varie strutture ad angolo retto della nostra realtà. Guardate com'è pieno qui. Mura, quadretti, finestre, porte. E quindi dal libro al giornale. Questa forma, noi dobbiamo trovare un punto di connessione, che può le asse lo schermo del computer, alle arti precedenti, alle forme medie. Ebbene, il filo conduttore, questa è una ricerca tutta nostra, è nel segno dell'angolo retto. Noi riempiamo quest'angolo retto, in cui normalmente viviamo, come uno strumento che contenga i nostri saperi. E quindi leggiamo, leggere, il libro, che nella forma poi ad angolo retto è piuttosto recente, perché comunque ha sennò duemila anni. Prima c'è il papiro, ma è come un lungo rettangolo rinchiuso. Prima ancora invece ci sono le tabolette d'argilla, o le famose tabule de albate romane, che in realtà erano blocnotes, quelle dove si scriveva sulla cera. Allora, tutto questo porta, scusa, possiamo tornare a tu indietro, Deborah, grazie, porta che cosa? Il quadro. Eccolo qua, il quadro, una delle forme, la forma d'arte quasi per eccellenza. Cosa c'è più ad angolo retto di un quadro? Il tondo è una minoranza, non sto dicendo che non c'è presente anche il tondo, la figura circolare, ma è assolutamente privilegiata la figura ad angolo retto. Anche quando hanno fatto i televisori rotondi, non hanno avuto questo successo di massa. Siamo talmente legati all'angolo retto che tendiamo a preferire di gran lunga questo. Possiamo a limite smussare un po' gli angoli, ma non di più. E poi si cerca anche di fuggire da questo angolo retto, naturalmente. E nell'angolo retto si può restare, come nel quadro, prigionieri della sindrome di Stendhal. Attenzione, perché quello che noi vediamo dentro questa forma è qualche cosa che ci mettiamo dentro, ma a volte ci viene il pensiero che sia qualcosa che sia già lì dentro e che ci voglia portare dentro o che voglia uscire fuori. C'è stato tutto un dibattito nel decennio scorso su quello che è il mondo di internet. E il film Matrix è un esempio. Cosa c'è dentro? Cosa c'è fuori? Non siamo già dentro? Ci vogliono portare dentro? O stanno uscendo? Pensate che grazie a... Ci sono tanti mondi paralleli, pochi li abbiamo scoperti. Grazie al microscopio abbiamo scoperto il mondo assolutamente microscopico. Grazie al cannocchiale Galilei ha visto un altro mondo che non c'era. Abbiamo visto che non c'era solo questo. c'è una galassia, ci sono molte galassie, infinite galassie, forse ci sono molti universi. Tutto questo è un mondo parallelo che potrebbe rientrare e noi facciamo rientrare dentro libri, quadri e così via. Possiamo andare avanti? Naturalmente arriviamo alla fotografia. Quello è un Daguerre. È una Parigi vista da Daguerre nel 1834. Il grande sogno dell'oggettività. Come il libro è il custode del sapere, nel libro si cerca la verità. Pensiamo ai libri religiosi, pensiamo anche ai libri filosofici. Così nella fotografia, come anche nella pittura, prima pensiamo al Rinascimento, si cerca la verità o l'oggettività. O finalmente abbiamo riprodotto o vediamo la realtà così com'è. Oggi sappiamo che invece la realtà non è così come sembra nella fotografia. Non ci vuole niente a cambiarla e a creare un qualcosa di diverso. E questa ossessione per l'angolo retto naturalmente arriva al cinema e alla televisione. Questo è un pezzo di Videodrome dell'83 del grande regista David Cronenberg. Ecco il desiderio di entrare lì dentro. O qualcosa da lì dentro tende a uscire fuori. Pensate alla rosa purpurea del Cairo. Il sogno di un personaggio che esce dal cinema, dal film e entra nella realtà. E queste nuove forme all'inizio riprendono il linguaggio della forma precedente. Quindi la fotografia riprende la pittura. Quindi il cinema all'inizio per più o meno vent'anni riprende le forme del teatro. Il primo piano noi siamo abituati a primi, primissimi piani ma non sono da sempre. Ci siamo abituati perché fin da piccoli vediamo qualcosa che è stato creato nel cinema negli anni dieci. Pastrone, Griffith Ogni nuova arte all'inizio nasce anonima poi prende i nomi. Deborah vi dirà come è successo anche nel computer. All'inizio ci sono i artisti del Faraone ma c'è il nome del Faraone e poi escono fuori invece i singoli artisti. In questo chi conosce la cultura greca lo sa benissimo nella poesia è Teognide che per primo dice metto lo sfraghis la firma. E nella pittura ci vorrà del tempo perché venga fuori la firma. Cinema, televisione siamo arrivati allo schermo del computer. Eccolo lì. Un bel windows un bel paesaggio spaccato il desiderio di entrare il desiderio di uscire il desiderio di non avere a che fare con questo tipo di realtà da cui ci distraiamo per vivere la vita nella vita siamo immersi questo tipo di realtà questo quadro io lo vedo mi piace ci sto vicino se mi giro non lo vedo più ecco pace dalla vita non ci si può distrarre dall'angolo retto sì perché dico questo? Perché oggi con i progetti di realtà virtuale e tutto il resto i famosi occhiali prima di Google poi di Facebook e così via c'è un desiderio da parte di questo nuovo medium di occupare la realtà in modo immersivo nessun'arte precedentemente ci è mai riuscita perché noi ci distraiamo da tutte queste arti rettangolari da un'arte circolare da una sfera in cui siamo immersi come è la realtà normale invece no questo tentativo io penso che non avrà successo a breve non so se lo avrà neanche a lungo perché bisognerebbe dimenticare le leggi di gravità in cui viviamo e abbandonare se avesse successo a livello di massa dico quindi dal 99% delle persone allora avremo una rivoluzione non più estetica formale ma antropologica perché cambierebbe direttamente il modo di percepire il mondo questo passaggio tra finzione realtà immersione e distrazione è fondamentale sono tutti tutte domande che vengono poste riflettendo sul medium dei videogiochi eccola qua all'arte aliena nasce come un gioco nasce come qualcosa che non dovrebbe avere a che fare con l'arte né tanto meno con la riflessione invece no è rivoluzionario questa è opera d'arte interattiva cioè il giocatore interviene nell'opera d'arte il grande sogno degli artisti vedo un quadro non lo contemplo e basta io voglio intervenire voglio rifarlo a modo mio voglio entrarci dentro Kurosawa sogni vi ricordate che entrava nel quadro di Van Gogh nel campo di grano altra cosa questo tipo di arte nuova è parte molto umile tutte le altre arti hanno pensato di dire qualcosa di vero di oggettivo questa invece dice ma è cosciente della propria finzione chi gioca non pensa di trovare la verità vincendo un livello di gioco eppure guarda caso la realtà si sta sottoponendo un processo di ludicizzazione di gamification come viene chiamata ecco che allora il videogioco ci può insegnare a guardare la nostra realtà di oggi con tutta una serie di strumenti in modo molto tranquillo e umile laddove le altre arti avevano pensato di inquadrare perfettamente la verità per di più è anche il movimento è il grande problema dell'arte che l'ha preceduto il nonno il cinema e la televisione cioè l'opera si muove è una cosa incredibile solo l'epoca democratica poteva inventare un'opera d'arte che si muove pensate che anche il teatro era statico fino all'inizio dell'ottocento ci è voluta la rivoluzione francese per far fare una piccola corsetta all'attore Talman nel 1807 quindi questo diventa difficile perché l'arte è stata sempre vista come qualcosa di immobile con pose fisse precise lo dice Dante anche nel purgatorio Virgilio quando è costretto a scappare nel secondo canto perde la dignità un'opera d'arte non si muove un capolavoro per la gente almeno per ricordo i miei nonni se si muove non è arte la madonna di Raffaello mica si muove e invece il cinema la televisione e il videogioco hanno rimesso in discussione anche questo e questo discorso è un discorso che è cominciato diecimila anni fa dopo la glaciazione quando si è cominciato a cercare in maniera ancora più forte non solo come si faceva prima questa è la cueva della smanos di dodici quattordici mila anni fa di cercare di superare lo schermo in questo caso di pietra della caverna ma di ricreare e riprodurre la realtà e il videogame è l'ultima interpretazione artistica della realtà che abbiamo oggi questo non vuol dire che siano tutti capolavori come non lo sono tutti i libri non lo sono tutti i film non lo sono tutti i quadri direi che posso passarti la parola resto un attimo sulla cueva per dirvi una curiosità in questa indagine che abbiamo fatto e che è nata proprio con quello che vi mostriamo adesso la nascita di tutta la nostra riflessione di Art of Games ad Aosta nel 2009 la cueva ha una struttura che è trapezoidale quasi come fosse un tubo catodico vabbè ma questo è un caso quello che è un caso ma comunque fa impressione pensando che i nostri antenati usavano il massimo della tecnologia che avevano a disposizione come noi oggi loro hanno usato delle cannucce per spruzzare i pigmenti e quindi fare questa street art sulla caverna così come la potete vedere anche cercandola nel web e hanno fatto quello che per noi oggi la spray art quindi l'aerosol quindi la bomboletta loro l'hanno fatto con la cannuccia beh per fare le immagini famosissime di questa caverna loro hanno usato solo tre colori che guarda caso sono gli stessi che noi abbiamo alla base del computer l'RGB della grafica vettoriale loro hanno usato gli stessi colori e come si chiama la mano nella sua impronta si chiama picture element che contratta fa pixel quindi il massimo della tecnologia dei nostri antenati è molto vicino al massimo della tecnologia che abbiamo noi oggi velocissimamente noi abbiamo iniziato appunto nel 2008 perché la riflessione su questi vari livelli di lettura e sul fatto che l'Italia e l'Europa fosse fonte di ispirazione per tutto il resto del mondo a livello proprio di produzione di grandi titoli colossal del mondo videoludico esattamente come quelli del cinema abbiamo fatto questa riflessione in Valle d'Aosta perché ci è piaciuto l'idea di confrontare quella che è la ricchezza del nostro patrimonio gotico e archeologico la Valle d'Aosta è molto ricca di questa 70 castelli anche se si conoscono di più quelli del Trentino e tantissimi ovviamente rilievi e scavi archeologici dell'epoca la Augusta Pretoria quindi la Roma delle Alpi ne abbiamo abbinati perché gli artisti internazionali hanno raccolto queste ispirazioni per metterle all'interno dei videogiochi facendo una mostra che come potete vedere è classica una bella un bel allestimento una bella ambientazione nel centro San Benen di Aosta quello deputato da 30 anni all'arte contemporanea e quello che vedete alle pareti anche in formati molto grandi quindi un metro un metro e mezzo di opere sono stati realizzati in questo modo quindi noi abbiamo avuto la possibilità di scegliere chiamando 14 grandi artisti internazionali e parlo di grandi artisti grandi nomi lead artist si chiamano quindi gli art director di tutte queste grandi produzioni ragazzi dai 19 ai 34 anni che sono i boss a livello mondiale di questa art anzi erano 10 anni fa qualcuno adesso è già in pensione vive alla Hawaii bene queste sono opere di file art perché l'artista dipinge all'interno del suo è un termine che abbiamo usato noi che dopo lo riprendiamo quando vi faccio vedere tecnicamente come si fa e che noi abbiamo riprodotto all'interno di materiali e supporti tradizionali quindi la tela quindi il legno il cristal l'alluminio la stampa fotografica in limited edition della Epson con il marchio a secco perché chi non videogiocava potesse entrare alla mostra e godersi le opere d'arte perché l'arte contemporanea contenuta nei videogame oggi è un'arte contemporanea molto diversa dall'arte contemporanea chiamiamola così tradizionale è un'arte che va a riprendere quelle forme interrotte del manierismo del rinascimento del tardo romanticismo quindi da un certo punto di vista è molto rassicurante per il pubblico che non ha lo shock dell'arte contemporanea che invece è sul pezzo magari per criticare determinate cose perché il videogioco lo fa dentro la sua azione quella di criticare o portare a riflettere su queste cose ma dal punto di vista estetico il videogioco ha una pittura super classica questi ragazzi hanno una mano da Leonardo e da Raffaello quando dipingono in accademia e lo fanno a mano libera ad una velocità incredibile ora ecco ci tenevo a farvi vedere questo allestimento e anche questa lettera del CNR che è un po' la nostra laurea honoris causa perché il CNR non patrocina mai mostre d'arte contemporanea ma per noi l'ha fatto perché proprio su quel tema l'applicazione tecnologica nell'era della sua manuabilità artistica e sul fatto che noi volessimo proprio capire com'è la genesi scientifica di quest'opera interattiva ci hanno dato il patrocino perché hanno riconosciuto che la nostra ricerca era stata effettivamente l'avanguardia questo è un esempio di confronto Luca sì questo il leitmotiv della mostra era diciamo il fantasy e il fantasy è in primo luogo figlio anche se poi tramite tante intermediazioni del tardo gotico quindi tutti i vari mosti tutte le varie atmosfere che poi vengono riprese e usate e abusate nel tardo romanticismo ecco che poi entrano nell'illustrazione del novecento e arrivano dritti a queste a queste opere di game art il castello era uno dei tanti esempi ma anche i gizan che ci sono i dormienti le sculture dei vari nobili morti erano dei modelli e gli stessi artisti quando sono entrati in Valle d'Aosta e hanno visto tutte queste serie di passaggi hanno detto ma noi siamo dentro un grande videogioco cioè ci sentiamo a casa e quindi questo è stato un modo per in questo modo facevamo conoscere a chi non videogioca il mondo dei videogame ma anche ai giovani il patrimonio artistico e l'importanza che ha anche da questo punto di vista per i giovani d'oggi e Deborah ha detto benissimo è incredibile questi ragazzi poi la cosa strana che per noi era rivoluzionario da un punto di vista formale pong cioè il pixel quella è una roba che non si è mai vista mentre loro sono invece educati a colpi soprattutto di rinascimento manierismo al massimo barocco iperfigurativi devono produrre centinaia di disegni a 360 gradi quindi devono riuscire a vedere tutti i calcoli delle luci delle ombre tutte queste cose qui e quindi sono iperclassici soprattutto adesso dove va di moda soprattutto l'iperrealistico a livello di grandi produzioni tranne alcune eccezioni a livello di indie invece abbiamo tutta una serie anche di innovazioni che prendono spunto soprattutto poi grazie anche alla tua lezione dell'arte anche del novecento ma diciamo che a livello di massa quello che colpisce è soprattutto orde soprattutto copie su copie su copie soprattutto di Leonardo ecco questo è proprio il modello per tutti ecco una cosa voi sapete che esistono le film commission sono ormai delle commissioni territoriali regionali anche provinciali ideati dal ministero dei bieni culturali e turismo dal MIBACT perché chi deve girare film a livello mondiale può interpellare la film commission e decidere di andare a Varese per girare il film che ha in mente con questa scenografia con questo screenplay c'è anche una videogame commission per cui c'è anche un sito adesso in Italia dove che è l'IV Pro dove tutti gli sviluppatori a livello mondiale possono andare sul sito e attingere al nostro patrimonio culturale per farne una location quindi virtuale del proprio nuovo titolo del proprio nuovo gioco questo permette anche a ciascun di noi a ciascuna delle nostre realtà i nostri musei anche a Villa Mirabello di candidarsi all'interno di questa commission e dire io sono disponibile potete benissimo utilizzare i nostri ambienti per farne un videogioco questo è un esempio di tela 4 metri per 2 insomma non è l'Eleuterio Pagliano che abbiamo qui ma è 007 Alpine Office quindi uno screenshot una concept art fatta per il videogioco di James Bond 4 metri per 2 cosa vuol dire? che noi abbiamo avuto un file da quest'artista dipinto a così grande altezza e qualità che abbiamo potuto senza doverlo tirare stamparlo su tela su tela di lino quella usata dai pittori a quella dimensione questa è un'altra delle caratteristiche dell'arte creata all'interno del computer un'altissima risoluzione un'altissima densità di particolari che mette in atto il sogno di Segantini che era quello di aveva lasciato in uno dei suoi scritti dei suoi diari il sogno di dipingere un panoramio di 20 metri e alla fine è quello che hanno sempre fatto proprio tutti i nostri artisti nelle nostre mostre abbiniamo sempre anche la parte interattiva quindi vedere effettivamente come le cose crescono e si sviluppano perché si chiama sviluppo quello del videogioco con appunto le parti filosofiche quello è il tappeto delle connessioni remote di 8 metri in cui si cammina sulle varie definizioni di 70.000 anni di storia che portano dalla prima losanga al videogioco e questo è quello che abbiamo fatto in questi anni quindi dalla The Art of Games di Aosta abbiamo poi voluto sdoganare questa cultura videoludica e portarla nel cuore dello sdoganamento cioè la Biennale di Venezia dove abbiamo fatto Neoludic Art is a Game e abbiamo portato 33 artisti italiani 15 dei più famosi videogiochi al mondo insieme a tutte le varie major che li hanno prodotti tantissimi sviluppatori italiani indipendenti dove abbiamo fatto una mostra capace di far vedere al pubblico il videogioco come opera ma con la console e il quadro davanti quindi capire che ciò che noi stiamo utilizzando è arte perché come vi diceva Luca prima è l'esempio di Assassin's Creed indagato al Museo della Scienza Leonardo da Vinci di Milano nel 2012 è stata importante per quello l'arte l'arte contenuta all'interno del videogioco e quindi questa sua dimensione interattiva e anche passiva è quella che ci permette di entrare in tutta una filologia dell'arte e un titolo come Assassin's Creed da 600 artisti per titolo che lavorano ogni volta capite che è ben diverso quindi oggi il mercato dell'arte come l'abbiamo sempre inteso con la figura dell'artista come l'abbiamo sempre intesa perché noi siamo ancora legati a un'idea bohemian dell'artista che produce nel suo atelier che fa fatica che non riesce mai a vendere le opere e il mercato non rende abbastanza è difficile magari bisogna fare un altro lavoro perché possa anche continuare a fare l'artista non è il caso degli artisti che lavorano nel digitale soprattutto gli artisti che lavorano nel campo videoludico del videogame sono artisti che si formano per la propria specialità che vengono assunti oggi a tempo indeterminato in queste grandi imprese perché vengono prodotti titoli e pensate che ognuno di questi 600 artisti per una scena ha almeno 5.000 opere d'arte dipinte a mano libera pensate che cosa non è questo patrimonio è sconvolgente pensare a come abbiamo tuttora come facciamo l'arte e che cosa sta nascendo dentro qui quindi la nostra preoccupazione è anche quella di documentarla se no queste sono cose che andranno perse immaginate cosa sarebbe il mondo se noi oggi per vedere Leonardo o Raffaello dovessimo usare una macchina che è andata in disuso perché non abbiamo più carica batteria uguale sarebbe terribile ma fra 100-200 anni alcuni di questi artisti che stanno rinnovando le estetiche e noi oggi li consideriamo un po' così perché comunque col discorso del movimento col discorso che c'è dietro un'azione non siamo ancora convinti che sia arte ma questi sono artisti così come gli impressionisti hanno sconvolto e scandalizzato l'ambiente del salon a Parigi quando sono usciti questi sono artisti che non ci stanno scandalizzando perché vendono milioni di copie ogni titolo di quelli grossi vende anche 100 milioni di copie il primo giorno dell'uscita capite ecco perché è un po' scandalosa questa nostra chiacchierata sul mercato dell'arte oggi l'artista che oggi studia in accademia nuove tecnologie dell'arte o informatica alla statale di Milano o al Politecnico esce e ha già 10 richieste di lavoro dovrà lui decidere dove andare non farà fatica a trovare il posto perché siamo nel momento dello sviluppo di tutte queste sezioni anche lo STEM e quindi favorire le ragazze a studiare tutte le discipline scientifiche a cui si è aggiunta anche l'arte sono il nostro futuro ed è questa applicazione tecnologica nell'era della manuabilità artistica che ci sta letteralmente cambiando la vita quindi noi portiamo avanti questo discorso anche con i guru questo è Nolan Bushnell che è fondatore di Atari vi ricordate quando c'erano i cabinati e si giocava a pong al tennis ecco questo signore che ha sposato una signora di Domodossola ma vive negli Stati Uniti è il fondatore di Atari noi facciamo anche delle mostre con degli omaggi facendo ritratti agli artisti questi sono i tre manifesti delle nostre tre grandi mostre quella della Biennale di Venezia quella di The Art of Games ad Aosta e il Museo Temporaneo alla Scienza e Tecnologia di Milano e poi i luoghi dove portiamo queste chiacchierate quindi la Statale di Milano l'Accademia delle Belle Arti di Venezia il Museo della Scienza per la mostra sulla realtà virtuale Besozzo abbiamo fatto la mostra alla biblioteca di Besozzo alla Villa di Giussano e a Fabbrica del Vapore a Milano ecco ci piace portare i nostri artisti nelle location più particolari dal Comune al Grande Museo per farli conoscere a Lucca la nostra mostra è stata visitata a 80.000 persone in 4 giorni perché ovviamente è anche un contesto particolare dove tutte le persone si mettevano in coda tranquillamente pur di visitare l'esposizione siccome noi siamo stati i primi al mondo a fare questo ragionamento scientifico intorno alle arti utilizzate digitalmente tecnologicamente subito dopo di noi abbiamo aperto un mondo lo Smithsonian ha fatto nel 2012 The Art of Video Games esponendo anche tutta la storia del videogioco e delle console purtroppo stasera non abbiamo il tempo materiale noi abbiamo anche delle conferenze sulla storia del videogioco che nasce negli anni 40 del secolo scorso nasce dal radar quindi nasce dall'esperienza bellica in un certo senso e diventa qualcosa di ludico ma molto importante è il MoMA che nel 2012 acquisisce 14 titoli di videogame e li espone al MoMA se voi andate a visitarlo nella sezione design del MoMA trovate 14 titoli che sono stati ritenuti molto importanti proprio dal punto di vista del design oltre al MoMA noi abbiamo al museo Leonardo da Vinci di Milano intere sezioni completamente arricchite dal punto di vista interattivo di videogiochi che vengono prodotti internamente al museo dall'interactive producer Luca Lancella che è anche uno dei nostri artisti e quindi non solo i ragazzi ma anche gli adulti possono capire la catena alimentare la costruzione del duomo la nascita dell'acciaio attraverso veri e propri confronti ludici quindi facendo un videogioco per apprendere il Victoria and Albert Museum addirittura ogni anno fa un bando di 30.000 sterline per un giovane artista che vada a vivere al museo e in sei mesi possa programmare e progettare un videogioco utile al museo il Louvre è stato il primo adottarsi con la Nintendo DS di una vera lettura di programma all'interno delle proprie sale come vedete attraverso la console portatile è possibile avere le spiegazioni delle opere e anche le lingue e quindi si supera anche la barriera del dover per forza avere sempre la cuffietta oppure dover avere pannelli che traducono in varie lingue ad esempio altri esempi di musei che hanno adottato il videogioco all'interno delle proprie sale la Tate ha corsa contro il tempo per cui chi vuole fare questo videogioco scopre tutte le correnti artistiche attraverso questo camaleonte che cerca di scappare dal dottor Scala di Grigi e che quindi cerca tutte le volte di azzerarlo la gamification è un processo che ormai incontrate tutti i giorni dalla pubblicità della farmacia in internet alla vostra banca è quel processo che aiuta a trovare delle soluzioni ludiche cioè che sviluppano un coinvolgimento engagement si usa molto adesso in contesti dove il gioco non c'è certamente non vado in banca a giocare ma la banca sta adottando tutta una serie di dinamiche per farsi conoscere e per essere fruita meglio da noi attraverso la gamification ecco che un museo anche come il British addirittura utilizza un gioco in flash creando i vari livelli per farti comprendere in modo interattivo lo sviluppo lo sviluppo delle civiltà poi c'è Baltimora con il videogame sulla vita babilonese una notte al museo dello Smithsonian anche come il film che penso quasi tutti voi avrete visto e quella che avete visto nell'immagine di prima questa è la vincitrice del primo contest che ha fatto un videogioco sui tessuti di William Morris quindi ancora una volta documentare l'arte che noi abbiamo la nostra storia il videogioco non cancella la nostra cultura lo esalta e gli dà una forma per non solo i nativi digitali ma per tutti noi che abbiamo intenzione di sentirci cittadini del presente quindi di questo ventunesimo secolo e non facciamo a meno della tecnologia che abbiamo nelle tasche in Italia abbiamo il museo della scienza che vi ho detto abbiamo il pol di pezzoli che ha creato nella sala degli orologi delle navigazioni interattive con l'opera d'arte di Streamcolors che usando la matematica di Fibonacci permette al pubblico di entrare in un orologio e navigarci all'interno creando forme completamente nuove e poi tra le app ci sono app promozionali come quella del Man di Napoli del nostro museo archeologico nazionale Fader & Son che è stata scaricata tantissimo ed è una promozione per conoscere il museo archeologico anche noi abbiamo le nostre app abbiamo fatto dei musei giocabili sui nostri siti ci sono in fase di video e se qualcuno di voi ha il bluetooth acceso la mia borsa probabilmente sta emettendo dei messaggi ho in tasca un beacon che vi sta lanciando questa app se avete il bluetooth acceso e ricevete un messaggio siamo noi non siamo spam e la nostra app è gratuita che contiene i nostri appuntamenti e le opere dei nostri artisti una carrellata sul resto del mondo e dell'Italia la biblioteca sta cambiando ora non c'è più solo il prestito dei libri dei dvd e della musica ma anche quella dei videogiochi la famiglia può andare in biblioteca e prendere in prestito il videogioco per la propria famiglia senza bisogno di spendere per forza i soldi e addirittura in biblioteca trovare giovanissimi ragazzi di 13-16 anni che fanno da tutor nelle sale delle biblioteche per spiegare agli adulti che cos'è il videogioco e come si gioca questi sono i centri attivi a Milano ce n'è uno anche a Varese a Carnago dove è possibile avere la gaming zone e mi piace sottolineare che abbiamo aperto una gaming zone anche nel carcere di opera a Milano ecco che dunque l'arte del ventunesimo secolo è questo videogioco abbiamo detto tempo distratto grazie all'angolo retto e che concept art nuovi media applicazioni crossmediali hanno un codice genetico digitale comune comunque alle arti del secolo scorso come la videoarte il cinema e l'estetica relazionale perché i videogiochi sono figli di questo questa è un'immagine ironica creata da un nostro artista Filippo Scaboro potete vedere che ha in mano qualcosa di particolare l'uomo Vitruviano la console il controller allora volevo farvi un test Leonardo Da Vinci pensate una cosa ditela Galileo Galilei dite una cosa canocchiale Michelangelo dite una cosa Pietà Mosè Cappella Sistina questi tre uomini erano uno un inventore un consulente bellico uno un noto scrittore e l'altro un grande architetto ingegnere io rispondo sempre alla stessa cosa che avete risposto voi perché perché sono stati tre geni che sono riusciti nei loro percorsi professionali a unire i loro ambiti e a creare dei capolavori assoluti mixando il loro sapere oggi l'artista che lavora al computer con le tecnologie che ha a disposizione che richiedono grandissima preparazione esce dal suo ambito ristretto perché abbraccia quella della scienza quella della matematica quella dell'informatica e diventa ancora una volta colui che esprime descrive e crea il mondo riuscendo a coordinare tutto questo sapere ecco perché noi oggi parliamo di rinascimento videoludico contemporaneo perché sta cambiando nettamente la figura dell'artista e di nuovo stiamo tornando a una congiunzione tra le arti e le scienze abbiamo avuto un grande precursore in questo senso Andy Warhol lo conosciamo tutti senza andare a dire che l'anno in cui lui ha inventato con la sua scarpa e con la sua lattina l'idea della serigrafia ed è stato lo stesso anno in cui usciva Odyssey Space Odyssey il videogioco che è diventato famosissimo beh Warhol è stato capace di utilizzare Amiga computer utilizzato anche per i videogiochi per fare la sua arte è stato recentemente scoperto solo quattro anni fa da una game artist Corey Arcangel che lavorando alla fondazione di Pittsburgh di Warhol ha scoperto tutti questi floppy e ha detto cosa c'è in questi floppy di Warhol ha iniziato con veramente molta cautela a indagarli e ha scoperto che Warhol li aveva riempiti di opere d'arte sue fatte tutte interamente con Amiga e guardate questa questa è un'opera di Warhol fatta con Amiga guardate i pixel e guardate la sapienza di composizione forzando un computer che era già avantissimo per l'epoca ma che era assolutamente rudimentale se pensiamo alle tecnologie che abbiamo noi oggi ma Warhol era grandissimo volevo fare un passo prima Luca qua e dopo ti cedo la parola già che c'ero qui così siamo sull'argomento perché tutta quest'arte è la stessa cosa di quella usata da Van Gogh quindi la tavolozza di Van Gogh e la tavolozza di Photoshop con 160.000 pantoni non è che avere dei pigmenti da triturare o dei tubetti da strizzare sia diverso da avere 160.000 pantoni perché l'artista è nella testa che lo sceglie il colore non importa quindi alla fine l'artista userà la sua tavolozza ed ecco come avviene proprio la creazione dell'opera d'arte digitale avviene tramite uno strumento quello di Photoshop abbiamo anche artisti qua che lo sanno che la producono e che puoi personalizzare creandoti tu la tua matita il tuo pennello sottile largo a seconda di quello che vuoi realizzare vuoi un effetto come l'olio vuoi un effetto come l'acquarello vuoi fare un disegno a carboncino tutto totalmente personale ecco torno indietro un attimo perché questa esperienza è stata proprio esemplificata e portata molto bene avanti proprio da Assassin's Creed che noi abbiamo sempre usato come modello no è un esempio di come può essere un videogame oggi un classico Assassin's Creed cioè il credo dell'assassino a parte che già nel titolo rimette in discussione il termine assassino che noi da Dante in poi trasformiamo in sicario in realtà ha una terminologia molto più complessa che ha a che fare con la fedeltà in questo caso gli assassini qui che combattono contro i templari in questa lotta secolare che dalla terza crociata nel dodicesimo secolo arriva fino praticamente al novecento anzi fino al 2012 e cosa succede nelle loro varie puntate il gioco che cosa ha di particolare che è un gioco uno molto classico come forme quindi è il rinascimento più diciamo un bel po' di colore di De La Croix più la migliore illustrazione classica del novecento e soprattutto una grande attenzione filologica degna di un Kubrick degli anni settanta di Barry Lyndon per quanto riguarda la ricostruzione allora è un gioco ambientato per due terzi in patrimoni artistici dell'umanità dell'UNESCO quindi è un gioco molto colto originale perché è ambientato all'inizio nel sud del Libano quando i videogiochi si ambientano in Inghilterra negli Stati Uniti o in Giappone quindi poi per di più in una zona calda immagino gli addetti al marketing il terrore che avranno avuto in quegli anni è un gioco che ha avuto successo grazie proprio al fatto che è un gioco molto colto e che col passare del tempo ha messo sempre un po' più diciamo meno in evidenza l'aspetto del combattimento e più quello invece dell'esplorazione sia della Terra Santa del XII secolo sia poi del Rinascimento Italiano perché è ambientato nell'Italia tra la fine del 1400 e l'inizio del 1500 nella seconda parte sia durante la Rivoluzione Americana poi Rivoluzione Francese e poi Epoca Vittoriana per tornare quest'anno proprio invece nell'Egitto Tolemaico il tutto ricostruito con una raffinatezza estrema prendendo poi spunto da autori che abbiamo in casa che naturalmente noi italiani non prendiamo mai in considerazione perché una scoperta che abbiamo fatto noi è che il protagonista Connor Kenway alias Raton Aketon cioè un mezzo sangue pelle rossa e inglese ha un abbigliamento che normalmente nell'iconografia americana del XVIII-XXIX secolo non c'è mai cioè manca un elemento fondamentale una cosa che piace molto sempre al tipo di americani specie bianchi cioè il fucile come mai non ha il fucile e quindi non hanno preso come riferimento un'iconografia americana ma sono andati a pescarlo dove? qui da noi a Bergamo Enrico Scuri questo signore Costantino Beltrami è lo scopritore delle sorgenti del Mississippi è un italiano è un pittore importante dell'Ottocento ma poco noto come Enrico Scuri ha fatto un ritratto e guardate il cappotto farei tra frecce ascia è giusto una pistola è lo stesso che ha sempre Connor Kenway quindi anche qui è una cosa interessante dall'estero vengono a pescare i nostri beni culturali e ne fanno ci si chiede come mai non l'abbiano fatto gli italiani Venezia Firenze Roma sono protagoniste delle migliori puntate di Assassin's Creed e la cosa importante è che questa è una foto di San Marco e questo è il videogame fate conto che è roba fatta dieci anni fa quindi per certi aspetti quasi non dico primitiva ma rispetto a quello che c'è oggi e cosa fanno gli autori di Assassin's Creed quando c'è il ponte di Rialto è ambientato nel 1499 e non vanno a metterci il ponte costruito nella seconda metà del Cinquecento ma ci piazzano quello del Carpaccio rivisitato giusto un attimo e questa è l'attenzione filologica che c'è in un videogame che noi portiamo nelle scuole perché è proprio un classico addirittura l'abbiamo presentato dopo l'Università dell'Insubria qualche mese fa il Discovery Tour c'è tutta una modalità che non prevede neanche più il combattimento ma ti fa visitare l'Egitto tolemaico con 75 diversi percorsi fatti raffinatissimi per farvi un esempio si scorda sempre si parla di Alessandria ma Alessandria era una città greca e quindi gli egizi originari non è che la massero moltissimo dato che potevano entrarci solo come servitori questo aspetto viene detto subito all'inizio del videogame quando c'è il primo viaggio c'è un'attenzione all'aspetto egizio all'aspetto greco all'aspetto romano quindi come vedete questi sono dei modelli perfetti manca un po' con l'aspetto dirompente o trasgressivo dell'arte tradizionale quello è vero non trovi nessuno che ti fa una performance alla Yves Klein con le modelle nude buttandole nel colore o una merda d'autore di Manzoni o altro diciamo che questi per certi aspetti di media sono dei bravissimi ragazzi sono una generazione timida come è la generazione oggi dei 20-30 anni e sono dei professionisti ecco i nostri libri The Art of Games il primo poi i due pubblicati da Schirà che quindi è stata attenta anche a questo nuovo aspetto neoludica per la Biennale di Venezia e Assassin's Creed Art Revolution per invece la mostra del 2012 al Museo della Scienza e Tecnologia di Milano poi abbiamo fatto Game Art Revolution con un bellissimo quadro di pixel art sempre di Ivan Porrini di Besozzo e poi abbiamo una collana di Game Culture con testi di un altro giovanissimo neanche trentenne Francesco Tognolo che adesso insegna alla Cattolica dedicata proprio a tutte le nuove serie di videogame più recenti questo è il nostro catalogo che abbiamo fatto per la mostra a Venezia nel Isolo di San Servolo nel 2016 con un bellissimo ritratto di Donna Misteriosa di Christian Scampini che è uno dei più importanti artisti game artist contemporanei e io ripasso il microfono a te un altro artista grandissimo come Warhol che tutti conoscete è David Hockney David Hockney non abbiamo portato a farvi vedere il video ma lo cercate su Youtube lui ha utilizzato subito l'iPad appena uscito con la possibilità di dipingere con le dita e ha esposto alla Royal Academy di Londra la sua primavera dipingendo tutto appunto sull'iPad ci sono dei documentari bellissimi perché è un'ottantenne geniale e veramente uno dei nostri artisti più importanti è stato tra i primi a utilizzare la tecnologia e farne tranquillamente la sua arte dicendo perché no posso fare molti più schizzi in questo modo rispetto a portarmi tutte le tele nel bosco quelle le faccio dopo ecco dove noi facciamo discendere la game art e la net art del ventunesimo secolo dalla macchina estetica e da quello che è stato il meraviglioso inizio di secolo del secolo scorso in 30 anni quant'arte è stata prodotta quanti movimenti quante correnti quante estetiche è qualcosa di esagerato io adoro l'arte contemporanea e mi sono divertita nei miei studi a leggere anche tutti i manifesti di questi movimenti di queste correnti beh secondo noi siccome il videogame nasce comunque unendo l'architettura il design la poesia l'estetica e la musica noi lo facciamo discendere proprio dalla macchina estetica e quindi da questo cuore per poi arrivare dritto a dritto al nostro ventunesimo secolo se questa era l'arte di un secolo fa molto molto giocosa anche lei e molto critica molto ironicamente possiamo dire che l'arte è questa lo sappiamo che ci sono tante opere d'arte però è qua che si insinua l'alieno cioè noi adesso andiamo comunque a vedere delle mostre di artisti che lavorano con il lego e non usano più il lego solo per fare la piccola costruzione diventa il lego un materiale esattamente come la ceramica la usavamo per la nostra tazza ma Gio Ponti ha fatto dei capolavori e Lucio Fontana ha fatto dei concetti spaziali il lego sta diventando una materia d'arte questa pietà di Michelangelo con Peach che tiene Super Mario morto in braccio è alta due metri ed è scolpita in polistirolo da questo giovane artista polacco Kordian Lewandowski e poi la primavera che vi ho appena fatto vedere del nostro Ocni ve la ricordate questa? la scheda del computer questa è una scheda dell'Euratom sopravvissuta dagli anni 80 beh noi siamo figli oggi di questa meravigliosa la conoscete? se esiste il software lo dobbiamo a lei perché l'hardware il computer l'ha inventato Charles Babbage inglese la prima idea di software ispirandosi alla scheda forata del telaio Jacquard quindi il telaio meccanico l'ha elaborata questa donna Ada Lovelace che è niente meno che la figlia di Lord Byron George Byron il poeta ebbe una relazione con Annabella Milbank una matematica scozzese ebbero una figlia la madre cacciò subito di casa George Byron che condivino le sue periglianazioni nel resto dell'Europa ed educò la matematica alla figlia che arrivò a questa idea di dire che nella macchina analitica cioè nel computer di Babbage forse non doveva esserci tutto dentro subito ma si poteva creare un qualche cosa che si poteva inserire e togliere cioè il programma ovvero anche il software questa idea le venne pensate voi grazie a un nostro presidente del consiglio che era uno dei grandi matematici dell'ottocento Luigi Menabrea tutto questo discorso l'abbiamo analizzato e fatto perché era la nostra patrona nella mostra ad Aosta di The Art of Games perché Menabrea le prime intuizioni sulle sue note che ha fatto a Babbage e che sono state lette a sua volta da Adalove le fatte al forte di Bard al confine tra quando era a lavorare lì come lui era un ufficiale dell'esercito insieme a un altro sconosciuto che si chiamava Camillo Benso Conte di Cavour negli anni 30 dell'ottocento quindi pensate voi queste riflessioni matematiche hanno portato questa donna che poi purtroppo è morta prematuramente di parto a ideare l'idea del software che poi si è materializzata nel novecento nella scheda forata e la NASA poi ha riconosciuto il suo valore nel 79 dando il nome di un programma ad Adalove leis e oggi da pochi anni purtroppo pensate voi doveva esserci da 200 anni c'è l'Adalove Leis Day che festeggia tutte le grandi scienziate donne e tra parentesi non ne mancano neanche altre nel meraviglioso mondo del computer ecco qua questa è l'arte più recente attenzione è sempre perché ci sembra tutto molto recente quando noi parliamo di computer di videogioco di digitale in realtà la digital art noi l'abbiamo già dagli anni sessanta dal 1965 ed è quell'arte che viene creata con l'ausilio di un computer sicuramente negli anni sessanta era diversa la produzione ovviamente rispetto a quella di oggi ma tra i primi ci sono stati Giordini Is Frieder Neike Hiroshi Kawano e i nostri italiani Ive Franco Mates tuttora sull'onda proprio con queste progettazioni che abbiamo portato la Biennale di Venezia poi c'è la computer graphics queste sono tutte definizioni di queste tipologie di arte che di solito noi non teniamo in considerazione ma è arte a tutti gli effetti ha un mercato e anzi soprattutto quella degli anziani ne ha molto e ha molto valore la computer graphics è proprio la creazione di opere d'arte creati con gli algoritmi e comprende la grafica vettoriale l'interfaccia utente cioè chi disegna come voi utilizzerete il vostro smartphone la realtà virtuale ci sono state le prime stampe a plotter e ci sono opere d'arte in circolazione di questo tipo poi c'è l'animazione e la 3D art che invece comprende quelle opere d'arte che usano il matte painting per le scenografie fra poco ve le mostro dove vengono inserite le animazioni per realizzare i lungometraggi altra domanda voi sapete che oggi il cinema che guardiamo non è più il cinema di ieri noi oggi quando guardiamo il cinema guardiamo soprattutto pittura tranne alcune pellicole sperimentali chi vuole usare la pellicola o chi vuole fare un certo tipo di ripresa diciamo così grandi titoli grandi colossal la maggior parte sono fatti in matte painting quindi noi andiamo al cinema e guardiamo grande pittura tra i primi ci sono stati questi artisti quindi vedete gli anni 79 90 Gazzira Babeli italiana è diventata molto famosa anche perché c'era Second Life e faceva molte performance parlando di performance all'interno del mondo virtuale la net art sono le opere d'arte create con per e nella rete quindi non possiamo parlare di net art se è fuori la net art è solo l'opera che viene creata nella rete la software art esiste quando l'artista si crea il proprio software per produrre la propria arte quindi è anche un programmatore l'activismo sono le opere d'arte di artisti impegnati socialmente che utilizzano le tecniche hacker ma per fare la net art all'interno del web Jody è un altro dei nostri grandi artisti e Corey Arcangel è quello che vi ho detto ha scoperto i floppy disk di Warhol che si è fatto questa domanda fanno parte di questo anche i machinima la game modification il computer game e le gif avete in mente tutte le gif animate dei nostri smartphone ci sono artisti che lavorano esclusivamente sulla gif animata il glitch il glitch e quindi poi ci sono gli oggetti interattivi e l'arte negli spazi pubblici il studio azzurro è stato per noi in Italia uno dei più grandi Paolo Rosa uno dei più grandi artisti e studi e poi le game art che sono quelle che noi abbiamo iniziato a classificare appunto dal 2008 abbiamo anche per farvi impazzire sull'arte aliena la parking art la conoscevate bisogna andare nei parcheggi liberi meglio se i supermercati giganti parcheggiare le macchine nel modo più strano andare in un punto alto fotografarle e metterle in rete abbiamo la green art c'è un giorno all'anno in cui chi vuole va sul sito e è possibile pagare un parcheggio ma riempirlo di arte, fiore e giardini e lo si fa in tutto il mondo però sono state messe sotto vuoto anche le modelle per un discorso sull'alimentazione la vita e la moda ed è stato fatto al Madison Square Garden questa invece è un'opera di game art forse riuscite a vederle vedete che questo è un occhio un naso purtroppo è troppo grande cioè notate troppo il pixel è un artista che utilizza i videogiochi sparatutto ma si è fatta il software per sparare dei colori e fa i ritratti ai suoi amici sparando questi colori sulla tela queste sono le concept art che noi vediamo al cinema Edvige Faini è una giovane artista concept artist di Matt Painting che lavora per Hollywood se avete visto Interstellar se avete visto Il pianeta delle scimmie o se avete visto Il libro della giungla Edvige ha fatto quello che voi avete visto insieme a altri una galassia di almeno altri 300 artisti però questo è quello che vi dicevo noi andiamo al cinema a vedere della pittura su cui poi viene innestato il movimento non è il cinema del secolo scorso e questo è anche nella televisione e nella pubblicità dove ormai tutte queste tecnologie diventano fondamentali per velocizzare anche il lavoro per la produzione e per la precisione perché vuol dire che un artista quando lavora queste cose può tornare indietro chiunque qualunque artista contemporaneo o cancella o deve buttare via l'artista che usa il digitale può tornare al passaggio precedente e quindi può ottimizzare una risorsa a uno spreco in meno questo è il quadro che vi abbiamo portato questa è un'opera di pixel art pensate questo è tutto bidimensionale quindi sono quadratini su quadratini composti per fare questa foresta ed essendo lo stesso bidimensionale il pixel guardate la profondità che si riesce a ottenere con questo pixel questi sono i nostri artisti aspetta torniamo indietro prima che presentiamo a tutte le mostre vorrei farvi vedere con video brevissimi di 50 secondi un minuto come viene fatta questa arte questa è un'opera di concept art dipinta a mano libera utilizzando photoshop si chiama speed painting quello che state vedendo ed è praticamente la sintesi di quello che l'artista ha fatto per dipingere questa scena ambientata nell'Egitto tolemaico con tutti i particolari dallo schizzo alla lumeggiatura finale l'ha fatto in stile Alma Tadema perché il tema era quello di rivisitare una scena di Origins attraverso una propria visione d'arte lui ha scelto quella di Alma Tadema vedete lo spostamento dello schermo e quando appaiono queste finestre sono le tavolozze sono le gradazioni di colore sono le curve di luminosità che l'artista decide di dare ma è tutto dipinto a mano libera assolutamente perché avete una penna ottica dove scegliete che pennello che matita usare intingete il colore però non è la stessa cosa non avete l'attrito che ha il pennello che ha il carboncino ecco perché questi giovani guardate che sapienza a livello manuale hanno una mano accademica bellissima andiamo pure il secondo questa è la creazione di Cleopatra con Giulio Cesare e Marco Antonio no questa è della Claudia Gironi che fa anche i personaggi della Marvel anche qui potete vedere in timelapse cioè in sovrapposizione dei passaggi tutto quello che è la pittura digitale fatta dall'artista grande studio anatomico ovviamente da parte di tutti questi artisti alcuni sono deputati alla persona altri all'architettura altri al paesaggio perché tutti lavorano come nella bottega rinascimentale ognuno lavora a una parte di quello che è il prodotto artistico finale come nella bottega rinascimentale c'era chi era bravo nei volti chi nei capelli chi nelle mani e nei piedi oggi ciascuno di loro ha un ruolo e anche se sparsi in tutto il mondo producono perché l'opera finale sia completa contiene questa opera sia la personalità dell'artista che la personalità del lead artist quindi il capo l'art director che dice voglio questa poesia nella pittura di questa scena e quindi l'artista può esprimersi su vari livelli grazie a tutti vedete prima l'artista fa il bozzetto generale poi lavora ogni pezzo singolare e poi ha preso la testa che ovviamente l'ha lavorata grande così perché le labbra avessero tutte le pieghe e poi la rimette nel suo schizzo più generale questo è quello che noi vediamo solitamente davvero al cinema, in televisione senza rendercene conto perché dopo anche all'interno del videogioco questi personaggi vengono presi e animati da altri artisti che hanno studiato l'altro tipo di anatomia quindi la muscolatura, la dinamica, le ombre e vengono azionati all'interno di quello che è il paesaggio adesso facciamo vedere la pixel art che è una cosa diversa e dopo lasciamo la parola a Stefano così vedete come si compone un quadro fatto di pixel vedetele come nasce veramente è stato montato appositamente con questa musica da videogiochi anni 80 vengono fatti attraverso gli strumenti delle piccole costruzioni che poi vengono utilizzate esattamente come fossero cubetti per la composizione generale ma anche qua c'è dietro tutto uno studio dell'architettura del paesaggio, delle proporzioni e anche in questo caso un grande amore per il retro gaming che l'artista dimostra per aver scelto proprio di farlo una pazienza enorme adesso anche nella pubblicità contro il maldito di testa c'è il tetris nel cervello quando vi passa il mal di testa il tetris funziona la cosa strana del mondo dei videogame che è un mondo di affari enormi che ha superato il cinema ormai da 10 anni è che però il videogame più venduto al mondo rimane un videogame né americano né giapponese ma un videogame creato all'Accademia delle Scienze dell'Unione Sovietica nel 1984 l'anno di Cernienko c'è proprio un anno diciamo più basso dell'Unione Sovietica ed è Tetris perché l'inventore è l'ex sovietico poi russo, poi americano Pajitnov e la cosa incredibile è che ce lo diceva uno un importante creatore di videogame americano cioè sì sì ma che ha venduto di più in assoluto è il videogame più utilizzato e per assoluto l'unico inventato nell'Unione Sovietica una cosa strana per più neanche in un anno di espansione ma in un anno di forte depressione grazie a tutti